Due giornate di studio e di aggiornamento finalizzate a creare un maggior dialogo tra clinici, ostetrici, ginecologi, medici legali, giuristi e magistrati. Al Nicolaus Hotel di Bari il congresso ostetricia tra prassi e giurisprudenza. Noi abbiamo un grande problema, quello di confrontarci con i nostri interlocutori che è la magistratura e i giuristi che difendono i contenziosi medico-legali. Obiettivo di lavori offrire tutte le informazioni utili per una più stretta collaborazione e trasparenza sulla responsabilità professionale in ambito sanitario. Il congresso infatti affronta la recente disciplina della legge Gelli che ha modificato alcuni aspetti in materia civile e penale amministrativa, in particolare nel campo della ostetricia e della ginecologia. Nella due giorni congressuale saranno affrontate le novità introdotte dalla legge e alcune tematiche specifiche della pratica medica. Non mancheranno simulazioni e la somministrazione di un questionario finale per la valutazione delle conoscenze acquisite sulla recente disciplina legislativa. Nell'ambito delle sessioni verranno fatte delle simulazioni con i manichini, verranno riportate alcune delle complicanze che si possono avere in campo stetrico e ginecologico. È la prima volta in Italia che viene affrontato un congresso che guardi a 360 gradi tutta la problematica del contenzioso. Quindi partendo da Bari faremo un congresso su una tematica identica con la procura generale di Roma, la porteremo a livello di Camera e Senato. Li porteremo in tutte le capologhi di regione affinché si possa sempre più raggiungere un momento di distensione fra noi clinici, fra medici legali, magistratura e giuristi.